Eccoci bentornati su GoGames, siamo su TheDiceLand2 e in questo video andremo a recuperare la chiave che ci consentirà di aprire questa cassetta di sicurezza qui. Siamo a Ocean Avenue, quindi qui dal punto di spawn basterà venire giù e arrivare a questa altezza, Stalker P, esattamente siamo qui all'angolo, e per andare a far spawnare il mob che ha la chiave di questa cassetta di sicurezza bisognerà aver sbloccato la missione secondaria Scoop, quindi se non avete fatto quella missione non vi sponerà il mob, per cui una volta fatta o mentre state facendo quella quest, dovrete comunque averla sbloccata, potrete sbloccare questo mob. Quindi andiamo da questa parte, ci infiliamo qui dentro, e dobbiamo aspettare che arrivi. Via, eccolo lì, ospite talk show. Allora Ma è bravo Vieni qui Siamo incastrati malissimo Molto aggressivo, eh Se ti diamo un carcetto? Come la vedi? Non muore, ha detto di no, vabbè, gli spariamo Ehm Vabbè Oh, si è ridossi a morire, eh Che cos'è? Lui ci dropperà appunto chiave valigetta sala stampa e per arrivarci basterà fare questo percorso. Andiamo su Andiamo di qua E ci infiliamo qui dentro ed esattamente in questo punto troveremo valigetta sala stampa. Andiamo ad aprire e all'interno troviamo una doppietta d'assalto con ricarica tattica. Ve la faccio vedere, come al solito. Eccola qui Questa è l'arma che troviamo all'interno di questa cassa Per cui se state facendo la missione, mi raccomando, insomma, recuperatela Detto questo, ovviamente dovrete aver aperto anche questa stanza, quindi O poco prima E che cos'è? Di aver finito la missione o appena l'avete finita Basterà ritornare qui e recuperare appunto la chiave dal mob che vi sponerà Detto questo, come al solito, grazie mille per averci seguito e alla prossima A presto!